Alcune scoperte inducono i geologi a far risalire a 500.000 anni fa l'età delle varie specie umane, questa cifra è troppo bassa. Prima di tutto in considerazione di quel che la scienza oggi ci insegna, cioè che l'uomo in quanto animale è il più antico di tutti i mammiferi, vissuto sulla terra nella tarda aurora del principio della vita, prima ancora di ogni sviluppo del suo cervello, in diverse forme zoologiche di anfibi e di rettili. In secondo luogo, se si considera quali incommensurabili periodi di tempo debbono essere stati necessari perché da quel tipo di marsupiale semieretto che camminava barcollando come in sogno, con le dita informi e inarticolate e un guizzo di vita prerazionale nel cervello e che deve avere personificato l'uomo prima della comparsa di Noah Utnapishtim, il sommo ingegno, venisse fuori l'inventore della freccia e dell'arco colui che seppe utilizzare il fuoco, foggiare il ferro delle meteoriti, coltivare il grano, il vino, allevare gli animali domestici. In una parola, quell'essere intelligente, avveduto, abile, che nei caratteri essenziali, si può ben dire, moderno, quale appunto ci appare l'uomo già agli albori della storia. Uno dei savi del tempio di Saïs interpretò a Solone la leggenda greca di Fetonte, rammentando che gli uomini dovevano un tempo avere assistito a una deviazione nel corso dei corpi celesti rotanti nello spazio intorno al nostro pianeta, deviazione che avrebbe prodotto un incendio devastante sulla terra. E in vero diventa sempre più certo che i ricordi onirici dell'uomo, informi ma sempre riplasmati secondo modalità favolose e leggendari, arrivano fino alle catastrofi di un'epoca infinitamente remota, la cui tradizione alimentata da avvenimenti posteriori e di minore mole ma di uguale natura diventò patrimonio comune dei diversi popoli, così da formare quella mobile successione di quinte che seduce a letta chi percorre e ripercorre a ritroso il passato. I versi incisi su quelle tavolette di Creta, che Giuseppe aveva sentito recitare e che conservava molto bene nella memoria, narravano tra l'altro del diluvio universale. Egli avrebbe conosciuto questa storia anche se non gli fosse pervenuta in lingua e lezione babilonese perché era viva soprattutto nel suo paese d'Occidente ma in modo particolare tra i suoi, seppure in una forma un po' diversa e con altri particolari da quelli che si conoscevano in Mesopotamia, la terra dei due fiumi. Proprio all'epoca della sua giovinezza questa storia si stava fissando nella sua famiglia altrimenti che in Oriente e Giuseppe sapeva bene come erano andate allora le cose quando ogni carne, animali compresi, aveva corrotto in modo indescrivibile le proprie vie, quando perfino la terra esercitava il meretricio e produceva l'olio invece del grano seminato. E tutto questo nonostante gli ammonimenti di Noè, così che il Signore e Creatore, il quale aveva dovuto vedere gli stessi suoi angeli implicati in queste nefandezze, alla fine, dopo un'ultima paziente dilazione di 120 anni, non potendo più tollerare né giustificare tanta perversione, era stato con dolore costretto a ricorrere alla sentenza del diluvio. Giuseppe sapeva che Dio, nella sua potente benevolenza, non condivisa affatto dagli angeli, aveva lasciato alla vita una porticina di scampo in forma di arca coperta di pece in cui Noè era entrato con tutti gli animali, conosceva perfino il giorno esatto in cui gli animali erano entrati nell'arca. Era stato il decimo giorno del mese di Cesuan e al diciassettesimo il diluvio si era rovesciato sulla terra al tempo del disgelo primaverile, quando la stella Sirio si leva di giorno e i pozzi cominciano a gonfiare quel giorno. Dunque Giuseppe aveva preso la data dal vecchio Eliezer. Ma quante volte da allora era ritornato quel giorno? Giuseppe non ci pensava e non ci pensava neppure il vecchio Eliezer. E qui cominciano le condensazioni, le confusioni, gli errori di prospettiva che dominano la tradizione. Dio sa quando l'Eufrate, sempre incline a irregolarità e a violenze, straripò per la prima volta, tutto sommergendo e inondando, o quando il golfo persico, fra tempeste e terremoti, penetrò a fondo nella terra ferma. Questi fatti, pur non avendo dato origine alla tradizione del diluvio universale, erano tuttavia serviti ad alimentarla per l'ultima volta e renderla terribilmente viva e attuale, cosicché generazioni successive poterono identificarli con il diluvio universale. Forse l'ultimo terrificante episodio non risale a un'età molto remota, ma quanto più è vicino, tanto più interessante diventa il problema. Come potè la generazione vittima e testimone di quell'episodio scambiarlo con l'oggetto della tradizione, con il diluvio universale? Ma così accadde, e che sia accaduto non può in alcun modo indurci a sorpresa o dispregio. L'esperienza non consiste tanto nel vedere e ripetersi qualche cosa che apparteneva al passato, quanto nel fatto che quel passato diveniva vivo e presente, ma poteva divenire presente perché le circostanze che l'avevano originato erano in ogni tempo presenti. In ogni tempo le vie della carne furono corrotte o potevano diventare tali, nonostante la più grande osservanza religiosa. Sanno forse gli uomini se agiscono bene o male davanti a Dio, o se invece agli occhi dei celesti è un abominio quello che a loro sembra bene. Gli uomini nella loro stoltezza non conoscono Dio. E nemmeno i decreti del mondo infero. Ogni momento l'indulgenza può esaurirsi. La sentenza entrare in vigore è certo non manco mai una voce ammonitrice di qualche sapiente, è mente eccelsa, capace di interpretare i segni precursori e che solo tra mille, per mezzo di accorto e provvidenza, potesse scampare alla rovina, non senza avere prima affidato alla terra, come semenza di futura saggezza, le tavole del sapere affinché appena le acque si fossero ritirate tutto potesse ricominciare da quel seme di scrittura in ogni tempo. Questa è la parola del mistero. Il mistero non conosce, tempo, ma la forma di ciò che non ha tempo è il qui e ora. Il diluvio universale beluogo dunque presso le Eufrate, ma anche in Cina. Circa 1300 anni prima della nostra era, si verificò laggiù una terribile alluvione dello Hoangò, la quale del resto indusse a regolare il corso del fiume e fu una ripetizione del grande straripamento avvenuto circa 1050 anni prima sotto il quinto imperatore il cui Noè si chiamava Yao. Considerata cronologicamente tale alluvione non fu il vero, il primo diluvio universale perché il ricordo di questo evento originario è comune a tutti i popoli, proprio come il racconto babilonese del diluvio, noto a Giuseppe, era soltanto una copia di testi più antichi e questi di altri più antichi ancora, cosicché l'esperienza del diluvio è da fare risalire ad archetipi sempre più remoti. Crediamo di essere particolarmente esatti quando, come prototipo ultimo e vero, prendiamo lo sprofondarsi dell'Atlantide nei flutti del mare. L'orribile notizia sarebbe allora giunta in tutte le contrade della Terra già colonizzate da quel continente e tramandandosi sempre mutevole, di schiatta in schiatta, si sarebbe fissata per sempre nella memoria degli uomini. Ma questo è un punto d'arrivo solo apparente, una meta provvisoria. Secondo un computo caldeo, tra il diluvio universale, la prima dinastia storica dell'Alta Mesopotamia, la Terra dei Due Fiumi intercorre un intervallo temporale di 39.180 anni. Di conseguenza la scomparsa dell'Atlantide, collocata solo 9.000 anni prima di Solone, è geologicamente considerata una catastrofe recente e non può essere stata il diluvio universale. Anch'essa fu soltanto una ripetizione, il ripresentarsi di un remotissimo passato, una spaventosa rievocazione, l'origine vera della storia. Si deve perlomeno fare risalire a un tempo incalcolabile in cui l'isola chiamata Lemuria, a sua volta ultimo resto dell'antico continente Gondwana, scomparve nelle onde dell'oceano indiano. L'interessante per noi non è il tempo esprimibile in cifre, ma il suo annullarsi nel misterioso scambio di tradizione e profezia, quando all'espressione una volta si dà il suo doppio significato di passato e di futuro e con ciò anche la sua carica di presente potenziale. Qui ha le sue radici l'idea della reincarnazione. I re di Babele e dei due Egitti, quel curigalzu dalla barbariciuta, non meno di quell'orus nel palazzo di Tebe chiamato Amune e Contento, e tutti i loro predecessori e successori, erano terrestri incarnazioni del Dio Sole. Il mito, cioè, divenne il loro misterium, e tra essere e simbolo, non ci fu alcuna possibilità di distinzione. I tempi in cui si poté discutere se l'ostia fosse realmente o solo simbolicamente il corpo dell'olocausto dovevano venire solo tremila anni più tardi, ma anche simili oziosissime discussioni non hanno potuto mutare nulla al fatto che l'essenza del mistero è e resta il presente senza tempo. Questo è il senso delle celebrazioni delle feste. Ogni Natale nasce di nuovo alla terra il bambino salvatore del mondo, destinato a soffrire, a morire e ad ascendere in cielo. E quando Giuseppe a Sichem o Bet-Lahama, durante il sostizio dell'estate, nella festa delle donne piangenti, la festa dell'accensione della lampada, la festa di Tammuz, vedeva ripetersi davanti ai suoi occhi l'assassinio del figlio disperso, del giovane Dio Osir Adonai e la sua resurrezione tra un grande singhiozzare di flauti e grida di giubilo, allora regnava appunto quella misteriosa abolizione del tempo che qui ci interessa, perché toglie ogni incongruenza al pensiero di coloro che nel disastro di ogni alluvione vedevano senz'altro il diluvio universale. Non è il tempo esprimibile in cifre, ma il suo annullarsi nel misterioso scambio di